Mohamed Gaye in Italia c'era arrivato nel 2009 a bordo di un aereo di linea con visto turistico. Una vita la sua di espedienti tra illusioni e illegalità. Il 25enne senegalese accusato di aver stuprato a Jesolo una ragazzina di 15 anni voleva fare il calciatore. Ce l'ha scritto anche sulla carta di identità, ancora valida, nonostante il permesso di soggiorno sia scaduto da 7 anni. Un casellario giudiziale lungo 5 pagine si va dalla rapina al furto, dalle risse alle minacce, fino alla resistenza pubblico ufficiale. Nel 2015 era stato arrestato perché a Venezia aveva rubato 700 euro in casa di alcuni studenti che lo avevano ospitato a dormire. Una vita la violento eppure non può essere espulso. Una ragazza veneziana dalla quale si è separato gli ha dato un figlio e questo per le normative vigenti impedisce il suo rimpatrio in Senegal. Da tempo senza fissa dimora, all'anagrafe risulta irreperibile, dal luglio del 2015. In molti però a Marcon, terraferma veneziana, dove ha vissuto per qualche anno, se lo ricordano ancora, nei locali lasciava sempre da pagare. Dall'inizio dell'estate sembra frequentasse abitualmente Jesolo anche per spacciare droga, dicono in molti. Qualche sera fa l'incontro con quella ragazzina minorenne, la proposta di andare insieme in spiaggia, la fuga, la denuncia per violenza sessuale, l'arresto.